Le scarse e sporadiche piogge dell'ultimo periodo riducono sempre più la disponibilità idrica, i prelievi restano superiori agli afflussi ed è necessario contenere i consumi. Lo dicono d'Acquedotto Pugliese analizzando i dati secondo cui da gennaio la quantità di acqua disponibile potrebbe essere insufficiente a soddisfare appieno la domanda. Ogni goccia, spiegano da QP, è fondamentale per superare la crisi idrica. Da quelle risparmiate con la tecnologia messa in campo da Acquedotto Pugliese negli ultimi anni a quelle che possono recuperare con piccoli gesti quotidiani i 4 milioni di cittadini serviti. È necessario continuare a mantenere ridotta la pressione nel rispetto degli standard di qualità previsti dalla carta del servizio idrico integrato. Meno acqua sarà consumata da tutti più si allontanerà infatti il rischio di inasprimento delle restrizioni. Ed è questo uno dei messaggi al centro della campagna di sensibilizzazione Siamo in Riserva. Sul sito di ACQP è disponibile anche una pagina con consigli utili su come risparmiare l'acqua. Tra questi, quelli rivolti ai cittadini, oltre ad un consumo responsabile dell'acqua evitando usi non prioritari, quello di installare autoclavi. Grazie. Grazie.